applausi che stai a venire? vieni i panni si aiutano ha spiegato il treno per non essere sfruttato il carro il panno mi ha giusto in coppia e spalla qui in dalle prega la stessa espressione la stessa ogni volta fastidio capito? fastidio avevo bisogno di parlare a me? raccontarti di me tu sei pericoloso no non è come pensi avevo bisogno di parlarti senza avermi dato la possibilità di aprire bocca ti ho parlato di quando andavo al cinema lucidossa delle tensioni con mia moglie ogni domenica le porto delle cose al centro non è come pensi sei un perdente ecco quello che sei un perdente tutto muscoli e niente c'è bello vattene via vattene via sparisci taggite per noi capito? taggite no e basta o 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 Grazie. I soldi vanno per draga. Non voglio sapere. Mi fanno prendere il castro. Sì, adesso. Non puoi sentire cosa sognare? È necessario. Puoi parlare, altrimenti... Mamma mia. Il potente sta gratta, eh? Oh, troppo tardi. Chi si già sente il mudo, eh? Mamma mia. Entrare in un cinema non ci possiamo. Le sedie sono tutte nuove. Vi aggiro in quella sala buia con un dannato. A cercare qualcuno. Grazie. 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 Il sonno ci viene tutti così indipresi, preda di chiunque. Il sonno ci viene tutti così indipresi, preda di chiunque. Il sonno parla, chi russa mostruosamente e chi invece sembra morto.